Il sole dopo l'ho curato il piede su tutti i giri. Ciao a tutti. Vai, Andrea. Sono del bagno 62. Andrea, vi aspettiamo domani mattina alle 5.15 per la messa qui del nostro carissimo Don Marco. Ciao a tutti, però non siamo soli, abbiamo con noi... Ciao. Fabio, buona giornata a tutti. Vi aspettiamo su tutto lo staff qui, mi raccomando, cosa devono portare? Qualcosa, Andrea? Sono Gamani, qualcuno se c'è qualche sedia, così usiamo pochi lettini, che visto che non si può usare tante cose, cerchiamo di portare, cerchiamo di usare un pochettino le proprie cose, così domani mattina non usiamo tutti i lettini della gente, così siamo più tranquilli per questo momento di crisi. Però speriamo di andare avanti. E niente, quindi domattina a 5.15 per passare una mattinata molto originale. Non perdete questa occasione, verrete a chiamare qua, siamo in Giamarina. Un grande saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Il salvataggio più bello della riviera. Anche il bagnino, anche l'altro bagnino e anche Elio.